Pallanoto, un'Ortigia determinata contro il Telimar senza esclusione di colpi. Non ci sono alternative né possibilità di appello. Domani sera a Palermo alle 19.30 l'Ortigia dovrà conquistare i tre punti per rimandare ogni verdetto all'eventuale gara 3 che si giocherebbe a Siracusa sabato prossimo. Gli uomini di Piccardo vogliono provare a fare l'impresa e a riscattare la sconfitta di misura subita pochi giorni fa davanti al proprio pubblico. Non sarà facile perché il Telimar è una squadra ostica e di pari livello e perché i bianco-verdi non possono disporre di Gallo e forse nemmeno di Vidovic. Ancora addolorante alla costola e comunque a mezzo servizio qualora stringesse i denti e facesse parte dei 13. La bella prestazione dell'Ortigia in gara 1 permette di sperare perché la sensazione è che con un pizzico di fortuna e precisione in più e con qualche escursione in meno i bianco-verdi avrebbero potuto portare a casa la vittoria. Non c'è più tempo però per recriminare, adesso c'è solo da lavorare, limare gli ultimi dettagli e lasciare che il campo parli sperando in una bella partita di pallannuoto e magari regalandosi un'altra opportunità di giocare davanti al meraviglioso pubblico che sabato scorso ha riempito la tribuna della Paolo Caldarella.